crisi aziendale come risolvere una crisi aziendale che può essere riferita un'azienda già esistente da anni come può essere un passaggio inevitabile quasi di ogni tipo di startup allora bisogna capire che una crisi aziendale ci sono diversi fattori che devono essere analizzati per poi poter essere risolti in questo video andremo ad analizzare i potenziali fattori di crisi e tutte le varie soluzioni step by step quindi voi avrete un'idea molto chiara di come fare ad approcciare questo in questa situazione premetto l'imprenditore chi ha la testa che di solito il controllo dell'azienda in questa fase spesso non sempre ma perde quello che è la consapevolezza situazionale perché i problemi vengono a grappolo ok cioè il problema grappolo la carenza di cash flow non sapere come pagare i fornitori sono problemi comuni di ogni crisi aziendale e in questa fase soprattutto se la prima volta che ti capita ti troverai una situazione dove tu perdi quello che è la tua consapevolezza cioè la capacità di leggere la situazione in cui ti trovi in maniera razionale e questo è abbastanza normale e quindi se sei se corri questo rischio e devi essere molto autocritico perché dipende da te questa situazione non da altri magari fatti affiancare da una persona che è emotivamente distaccata dalla situazione e che può leggere con consapevolezza la situazione a 360 gradi quindi farti uscire intanto va detto a tutti che una crisi aziendale può arrivare anche per motivi che sono così inaspettati tipo citiamo il più il più il più recente tipo il covido un crollo della borsa un aumento dei costi il cambio del mercato il mercato che vuole tecnologie che magari l'azienda rimane un po indietro e di colpo diventa obsoleta quindi si trova in un mercato in cui non è più competitiva perché i costi aumentano o comunque magari non calano e invece gli altri competitors utilizzando queste nuove tecnologie riescono a essere più competitivi cosa fare allora primo passo noi andiamo a identificare quelle che sono le cause della crisi bisogna capire in maniera molto onesta devi capire in maniera molto onesta perché ti trovi in questa situazione se ci riesci da solo se non ripeto fatti consigliare che cosa è successo ci sono state le condizioni economiche avverse che non dipendevano da te in cambiamenti tecnologici che non hai saputo cogliere errori di gestione perché gli errori di gestione sono tipici perché fino a quando i soldi girano gli errori di gestione vengono tutti attenuati un po come la neve quando l'inverno attenua i problemi delle persone quando i soldi girano ovviamente gli errori gestionali non non si manifestano nel peso effettivo in cui che hanno in realtà e quando li vedi li tocchi li senti sei già in una crisi che magari non è profonda ma è sicuramente da tenere in considerazione oppure ci sono degli eventi imprevisti che sono non so che cade un aereo venti proprio con cini neri che non puoi prevedere e che però io ho imparato che qualsiasi evento imprevisto che ti possa capitare alla fine responsabile sei tu e poi al mondo esterno al mercato è molto cinico e non frega niente quello che ti è successo e quindi deve risolvere i problemi una volta appunto che ha individuato qual è la causa il vero problema o i veri problemi per cui ti trovi in questa situazione dobbiamo andare a lavorare quello che è un piano di risanamento ok un piano di risanamento che può essere la riduzione dei costi dall'aumento delle entrate il miglioramento di quello che è l'efficienza operativa cioè fare le stesse cose spendendo meno e soprattutto quello che serve poi in realtà è modificare la strategia aziendale ecco di questa cosa è molto importante alla fine nella mia esperienza il 90% delle crisi che appartengono a startup o appartengono a aziende già esistenti vengono risolte con una modifica della strategia aziendale sono tutte le altre cose che vi dice il commercialista chi può dire anche il commercialista sono sono veramente dei pagliativi perché anche la riduzione dei costi l'aumentare le entrate migliorare l'efficienza operativa sì grazie al cazzo probabilmente se avete già pensato voi l'avete già fatto invece da un punto di vista strategico se siete molto dentro molto coinvolti nel vostro settore probabilmente avete delle cose da da imparare le strategie di risanamento includono anche anche altri altri modi cioè si possono anche chiudere parzialmente le aziende salvare il buono non salvare il buono e salvare solo il buono non salvare il resto dipende anche molto della costituzione societaria un srl quindi stati capitali un spa oppure stiamo parlando di una società personale o a nome collettivo dove voi siete responsabili in primis dei debiti verso i fornitori banche cioè dipendeva analizzato un po anche la situazione 360 gradi per capire come uscirne in un modo o in un altro e ripeto si esce sempre dalla cosa e come uscirne nel modo più vantaggioso legalmente perseguibile ma più vantaggioso appunto per voi per la vostra azienda per implementare quello che è il piano di risanamento è importante che una volta che si è definita una to do list che abbia una strategia operativa che vi possa portare fuori con un bilancio previsionale della situazione è molto importante monitorare costantemente su base io dico mensile ma sarebbe meglio anche ogni due settimane due volte al mese costantemente quelli che sono questi i risultati e conseguentemente monitorando i risultati si possono anche modificare in corso d'opera quelle che sono le strategie come comportarsi nei confronti degli altri confronti gli altri chi sono quando voi siete in crisi avete dei problemi con il fornitore avete problemi con le banche avete problemi col fisco avete problemi con i dipendenti avete problemi con tutti quindi siete da soli accercate da persone che vi che ovviamente vi fanno pressione e siete in una situazione in cui fate fatica anche a comunicare invece le crisi aziendali vanno comunicate le crisi aziendali siccome non c'è niente di male non stiamo non avete violentato una bambina non avete fatto di nulla siete degli imprenditori in difficoltà come ci sono stati ci saranno sempre nel sistema capitalistico competitivo voi dovete comunicare questa crisi a tutti dicendo che la perdita di fatturato la perdita di alimenti l'aumento dei costi c'è tutti quelli rischio anche di insolvenza magari non è colpa vostra o è colpa vostra parzialmente verso avete perso dei crediti attivi voi comunque con i dipendenti dovete comunicare la situazione dovete comunicarla a livello familiare dovete comunicarla con tutti perché in questo modo avete la possibilità di essere sotto certi punti di vista sempre fino a un certo punto compresi e vi serve essere comprese appunto perché con la nuova strategia potete dare delle cose ai fornitori creditori dipendenti e quindi avere uno spazio di manovra che se non siete compresi la gente o comunque diciamo il mondo esterno non vi da quindi la comprensione alla comunicazione della crisi aziendale molto importante per avere appunto spazi di manovra acquisire tempo e quindi poter poter avere tempo fisico di di attuare quello che è un piano di risanamento oppure se occorre mandare troia l'azienda portare avanti solo quello che ti interessa fare quello che c'è da fare in maniera molto cinica sempre all'interno ovviamente di quello che è la legalità bisogna evitare delle cose però molto importanti se voi volete continuare a lavorare in questo in quel settore che è la perdita di fiducia dei clienti la perdita di fiducia dei fornitori che vi può ulteriormente causare dei problemi di cash flow perché magari avevate un credito che poi viene ritirato e quindi avete ancora c'è il problema se accentua e anche la perdita di fiducia degli investitori quindi queste qui sono le cose che andrebbero evitate o comunque anche a livello comunicazionale gestite gestite molto bene io vi consiglio se siete in crisi aziendale non fare tutto da soli di non autocurarvi perché per quanto siete bravi per quanto potete avere le palle come imprenditori quando i problemi arrivano a grappolo è sempre un problema gestirli io vi consiglio anche da un punto di vista strategico di fare affidamento su una persona che vi fidate che abbia già esperienza di queste cose i commercialisti in questa situazione purtroppo vi vi potranno aiutare molto ma molto poco e non aspettatevi aiuto neanche da da quelli che sono le banche da quelli che sono i dipendenti ci siamo sono in mezzo alla burrasca dobbiamo gestirla come si dice come diceva mio mio capo chi vede l'arcobaleno prima visto la pioggia io ne ho gestite tantissime di crisi aziendale nella mia vita e quindi niente avanti ciao sebastian abdor italia